lola 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 eccoci qua in area youtube dispersi fra le montagne del vostro paese che è ancora voglio sentirlo meglio tu sei sopra avevi sopra di sopra attuare di sopra e gli altri di sotto ok quindi sopra e sotto lui sta sempre sopra ragazza vi va bene voi vi va bene a lui sopra voi se siete d'accordo voi va benissimo e cosa festeggiate stasera e lei perché lei è sempre sotto allora la festeggia per il suo altruismo la sua bontà la sua generosità ma non dovevate festeggiare il mitico thomas il trascinatore delle folle colui che quando organizza tutti lo seguono tutti lo clamano infatti oggi dovevamo essere in 18 però ha organizzato thomas e siamo i sei pochi ma buoni e gli altri 12 ci hai dimenticato di avvisarli tutti dispersi sotto giusto tutti sotto io sono l'uno di codinago di sopra ah tutti sopra thomas perché se fossero stati sotto gli davano retta ma parti con bollicine se no sudo dici cioè sudi bollicine praticamente praticamente ma no io voglio la presentazione facciamo così lui si chiama quello massimo il nostro massimo presenta il gruppo allora voi cantate da tanto tempo assieme da sempre da sempre siete un gruppo che conoscete le parole i testi e loro due cantano il piffero da tanti anni sono due pifferaie due pifferaie abbiamo le pifferaie e lei il suo primo lavoro è l'apprendista pompista si esatto perché giustamente c'è bisogno di pompare lì al vostro paese c'è questa necessità e quindi avete avete tutto il vostro bel da fare lì ragazzi giusto che fai piangi ti sei commossa? no no questa piange dalla felicità ha detto cavoli mi ricordo finalmente ripiffero ripiffero di nuovo qua si ripiffera eh tu Thomas col piffero eh che le mie pifferi il dono col piffero esatto 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 bellissimo mi piace il vostro gruppo siete tutti uniti le ragazze sono contentissime quando ti hanno dato un dono della parola madonna sono veramente contente che tu la usi in questo modo allora parti col piffero parto col piffero perché hai guardato in basso te? sei sempre te Barbara? non è sei te? alla parola piffero hai guardato il ragazzo in basso? perché è l'unica che ha visto il mio piffero quello ah c'è stata c'è un prossimo qualcosa si si c'è stata una volta quella è Thomas nel lontano non so io 80 nel lontano 80 in quei meravigliosi anni 80 tu ti aggiravi sotto una cosa in macchina in macchina sotto ti aggiravi sotto la macchina cosa facevi sotto la macchina? lui praticamente faceva la mossa del carrozzere lei lo sa si andava in giro col carrellino e si nascondeva sotto la macchina della Barbara giusto? del papà della Barbara del papà addirittura e la Barbara passava in quel momento? e passava sopra ripassava? che non ti è passata sopra con le ruote però no? sei pentita adesso? dai parli con queste bollicine qua ok andiamo con le bollicine che è meglio eh? che è meglio? ok fatemi sognare ragazzi di nago che non ho ancora capito eh? nago 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 come il mago sei sai dov'è torbole? eh torbole sul garda torbole sul garda ma buongiorno ma buongiorno buongiorno tristessa mi sono svegliato adesso me la cantate? buongiorno no buongiorno no ma a me piace quella lì eh? va bene è una storia lunga dai ok fatemi sognare con bollicine guardate guardate c'è Thomas che si tiene il pacco eh? per questo caso non si capisce perché spazio pubblicità piccolo piccolo spazio pubblicità spazio super stereo radio coca cola coca cola coca cola coca coca Cola, coca, cola, coca, cola, coca, cola, bevi la coca cola che ti fa bene, bevi la coca cola che ti fa digerire, con tutte quelle, tutte quelle bollicine, coca cola sì, coca cola a me mi fa impassire, coca cola sì, coca cola a me mi fa impassire, con tutte quelle, tutte quelle bollicine, piccolo, piccolo, spazio, pubblicità, che parla di terra, radio, superstereo radio, Coca, Cola, Coca, Cola, Coca, Cola, Coca... Cola coca, cola coca, cola coca, cola coca, cola Coca-Cola, chi, Coca-Cola, chi ne spagna già le mele? Coca-Cola, chi, Coca-Cola, chi non veste più le parepere? Con tutte quelle, tutte quelle medicine Io la Coca-Cola me la porto a scuola Coca-Cola Coca-Cola, chi, Coca-Cola, Coca-Cola e chiesa Coca-Cola Con tutte quelle, tutte quelle bollicine Coca-Cola, Coca-Cola, chi, Coca-Cola Con tutte quelle, tutte quelle bollicine Coca-Cola Coca-Cola, si, Coca-Cola, si, Coca-Cola Se non sapevi Io la Coca-Cola Coca-Cola me la porto a scuola Non ho mai sudato così neanche al lavoro Bravissimi ragazzi La scelta dei tempi e la conoscenza del testo, la padronanza è unica Stai lì, stai lì, stai lì Perché ci prendi per il... No, no, assolutamente Io? No Ragazzi, domani troverete il video sul sito del convento Andate a vedere Andate a vedere